Molto caldo politicamente, ieri la Lega ha deciso di far dimettere tutti i componenti del Copasir, il Comitato per la Sicurezza, quindi sui servizi parlamentari. Le chiedo che succede adesso, se questo vi avvicina a una tregua con Fratelli d'Italia che rivendica come forza di opposizione la Presidenza, come prescrivono peraltro le norme. Quindi se si va verso una distensione, però anche che succede al Copasir? Intanto non credo che ci sia bisogno di una tregua con gli amici Fratelli d'Italia, nel senso che ovviamente in questo momento siamo noi in maggioranza dell'opposizione per le note vicende, però voglio dire che ognuno gioca la propria partita, ma ci sono tutta una serie di argomentazioni su cui ovviamente siamo assolutamente concordi. La questione del Copasir, dopo tutte le polemiche, le cose che sono uscite in questi mesi, anche con una serie ovviamente di ragioni fondate e che erano arrivate a dire che in qualche modo semplicemente non si volesse lasciare la poltrona del Presidente, credo che il Presidente Volpi invece abbia voluto, dopo aver spiegato peraltro quali sarebbero state le difficoltà nell'immediato passaggio ad altro Presidente, comunque ha voluto giustamente tagliare la testa al Toro, d'accordo con Salvini, quindi si è rimesso lui, si sono rimesse gli altri componenti della Lega dal Copasir stesso, quindi se gli altri fanno la stessa cosa, a questo punto ci sono le condizioni per ripartire da zero e arrivare a una situazione che non è tanto precisata dalla legge, ma diciamo da una consuetudine ormai consolidata. Con la difficoltà ovviamente che condizioni normali tra maggioranza e minoranza non ci sono queste differenze numeriche, percentuali che invece ci sono in questa situazione, quindi bisognerà un attimo aggiustare il tiro in questo senso, sarà un problema dei Presidenti Fico e Casellati, ma credo che con questo passo la Lega... Ma avete messo, Salvini ha messo il veto su Adolfo Urso di Fratelli d'Italia, perché? Adesso non entriamo nel merito di cose che poi dovranno essere meglio precisate, per noi non era logico per dire un passaggio immediato da Presidente a Vice Presidente, dopodiché se si riazzera la partita come vi teniamo giusto debba essere fatto, ci saranno tutte le situazioni, gli elementi, le condizioni per arrivare a una situazione, ripetisco che non è marginale, è numerica, perché chiaramente non si possono dare cinque rappresentanti a un partito che in questo momento ha 40 parlamentari alla Camera e più o meno gli stessi in proporzione al Senato, si deve trovare un aggiustamento pur dando, come è giusto che sia, la presidenza a chi rappresenta l'opposizione. Angela Mauro, un commento rapidissimo su...